Ciao bambini, vi va oggi di fare insieme a voi un ritratto di noi stessi. Ecco, per farlo ci occorre un giornale o una rivista. Io ho preso un giornale e l'ho tagliato in tanti pezzetti di carta, quindi ho fatto triangoli, rettangoli, quadrati, tondi, come volete. Quindi ho tagliato in pezzetti di carta, di giornale. Poi prendiamo un cartoncino colorato e disegniamo il nostro volto. Quindi io faccio un bel viso tondo, un bel viso tondo, non so se si vede, e poi cominciamo ad attaccare tutti i pezzettini. Quindi metto la colla sul tondo che ho disegnato, che sarà il nostro viso. E poi vado ad attaccare tutti i pezzetti di giornale. Lo facciamo bello pieno pieno, va bene? Quindi attacchiamo tutti i pezzetti di giornale. Io ho scelto questo grigio, così poi potremo disegnarci sopra il nostro naso, la nostra bocca, insomma le nostre parti del corpo. Ecco, il nostro viso è quasi finito. Attacco l'ultimo pezzetto, riempio gli spazi vuoti. Ecco qui, il mio volto tondo è quasi finito. A questo punto, con il pennarello rosso, vado a disegnare la mia bocca. Quindi qui giù disegno la mia bocca, la coloro. Oppure se avete altri tipi di giornali dove c'è un po' di rosso, potete ritagliare il rosso e lo attaccate. La mia bocca, poi disegno gli occhi. Uno. Io ho gli occhi neri, chi ha gli occhi chiari li farà chiari. Ecco i due occhi. Poi, guardate un po', ho trovato un giornale con dei pezzetti azzurri. e mi voglio fare una bellissima collana intorno al collo azzurra. Potete mettervi una collana, oppure i maschietti possono mettere un papillon. Quello che più vi va. Ecco, ecco, la vi faccio vedere. Mi sono messa una bella collana intorno al collo. Ecco. Poi però ci mancano i capelli. Quindi, chi ha i capelli ritti farà dei capelli belli ritti. Io faccio i miei capelli tutti intorno al viso. Quindi continuo ad attaccare altri pezzetti di carta che siano i miei capelli. Ecco il triangolo. Opla, non si vede nulla, c'è la raccolla. Ecco. Giustiamo un po' quest'occhio perché si vede male. Io ho i capelli medio-corti. Chi ce l'avrà lunghi potrà anche farseli più lunghi. Ecco. Il nostro ritratto con il giornale è finito. Spero che il vostro verrà bellissimo. E vi abbraccio forte, bambini. E vi abbraccio forte. Grazie a tutti.